Salve a tutti amici, oggi vediamo come acquisire questa spada laser su God Simulator 3, completando la missione Mausoleo Imperiale. Missione che si attiva arrivando qua su, sul campanile. Io l'ho già fatta, ma vi faccio vedere come si fa. Ascoltiamo le tre note di queste tre campane. Intanto vado a farvi vedere qual era la missione che io ho completato. Mausoleo Imperiale. Usa la forza per suonare una marcia. Vi dice nulla? Usa la forza? Luke? Sentite le note? Possiamo comporre la marcia imperiale. Facciamolo. Ed ecco fatto, in questo modo si sbloccherà la porta del garage davanti a noi, quindi dovete scendere dal campanile, e potrete prendere la spada laser completando la missione. Un saluto. Grazie. Grazie.